Poi c'è anche uno con la bandiera di Totò Ciao ragazzi, oggi sono qua al Palabarbuno C'è una volta, però parecchi anni fa Ora è la prima volta che vengo proprio a registrare un video Guardate chi c'è con me Ciao Siamo qua per vedere comunque una partita importante Purtroppo il Napoli Basket non è come il Napoli Calcio Siamo lotta per non retrocedere E comunque è bello venire a vedere le partite perché Comunque è bello venire a vedere le partite perché Sono ancora più importanti Perché non devono retrocedere Qui c'hanno un motivo in più per vincere All'ultimo è grave Nel senso Essere gli ultimi tre è pericoloso Guarda il ciuccio Lo ciucci, lo ciucci Ragazzi qua inizia la partita Ho deciso comunque di non mettere tutti i canestri che sono stati fatti Anche perché sarebbe stato un video molto lungo e molto noioso Ho deciso invece di mettere i canestri più belli I momenti più salienti Le parti migliori della partita Quelle più movimentate Diciamo che rendono la partita Bella per quello che è Quindi spero il video vi piaccia E buona visione Grazie 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 a tutti! 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 Grazie a tutti!